Il Pordenone celebra a Rocco una vittoria che ha tutto il sapore di una promozione anticipata. I dieci punti di margine sull'antagonista triestina suonano già come una sentenza. L'Unione invece mastica Amaro, raggelata due volte dagli episodi, il gol subito dopo tre minuti e il rigore parato a Granocce, è stata comunque capace di riaprire il derby, solo però con il miraggio di un pari, svanito dopo una ripresa all'arrembaggio. In effetti è durato poco il gusto dolce della cornice delle grandi occasioni, di quella curva da Serie A, di quell'atmosfera che non si viveva da una decina d'anni almeno. Sono bastati meno di tre giri di lancette per vedere Candellone festeggiare l'1-0 sotto il catino della Furlan. Una rete da killer che costringe la squadra di Pavanel ad innestare Rampichino per tentare la rimonta. I rossolabardati però pagano lo scotto della tensione con diversi palloni persi nei primi minuti di gioco. Poi finalmente l'Unione fa capolino in attacco su due corner consecutivi. Al settimo è Coletti ad incornare di testa, al trentanovesimo procaccia un buon pallone sui piedi ma la conclusione non è pericolosa. Il Pordenone mostra trame di gioco migliori, soprattutto a centrocampo, recuperando palloni e mostrando grande sicurezza. Al quarantaquattresimo raddoppio, Frascatore sbaglia l'anticipo su Semenzato che si trova tu per tu con l'Ambrughi. Il capitano non riesce a sfilargli il pallone e commette fallo. Burrai dal dischetto è preciso, 2-0. Prima del Teccaldo c'è ancora tempo per un colpo di testa di Malomo fuori misura e per il contestatissimo episodio su Procaccio. Sulle prime pare effettivamente rigore, ma Iroldi non ha dubbi e ammonisce l'attaccante. La Moviola sembra effettivamente dare ragione all'arbitro. La voglia di ribaltare il risultato è evidente nella ripresa e il neoentrato Costantino procura subito la giusta occasione. La trattenuta in area è palese, rigore sacrosanto. Granocce però è infallibile, si inquida il dischetto, trova in Bindi la sua bestia nera. L'estremo difensore che pare non abbia mai parato un rigore fa il fenomeno. L'Unione prosegue in attacco a testa bassa. Prima Costantino e poi Procaccio impensieriscono la difesa di Tesser. Entrano Idaigo e Steffè. Il Pordenone in ripartenza si fa rivedere in attacco, ma Offredi c'è. I ragazzi di Pavanel mettono cuore d'anima davanti ai 7500 del Rocco e alla mezz'ora arriva la rete. Il neoentrato Steffè procura un gran pallone a Costantino che di collo pieno infila il portiere sul primo palo. Sta filata nel sette, pubblico che si riaccende. I venti minuti seguenti sono una crociata verso la porta della capolista. Procaccio è quello che va più vicino al gol, ma davvero tutti ci mettono le budella, non solo l'anima, per provare a pareggiare la sfida. Il Pordenone se la vede brutta, resiste, fa mailina e trova ancora un Bindi in grande giornata. Gli applausi però vanno pure all'unione e in quel noi ci crediamo della curva c'è tutta la prospettiva di un campionato in cui bisogna ancora conquistare il secondo posto per poi provare a superarsi nei play-off.